Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra B111, Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci in direzione di Roma. In scipili rallentamenti per lavori nelle due direzioni tra Montelupo e Ginestra. Si tratta di interventi all'altezza del turbone. Ci spostiamo sul raccordo Pettolle-Perugia fino al 2 giugno, lavori nei pressi dello svincolo di Pietraia in provincia di Arezzo. Previsto scambio di carreggiata con chiusura dello svincolo in direzione Perugia. Prima di salutarci per il traffico urbano del capoluogo, ricordiamo il provvedimento che consente la sosta gratis per due settimane, a partire da ieri 18 maggio, in 14 autorimesse private in centro. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana in Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!